Allora Questo mi sa che è metà pezzo di set Però c'ho tutto quasi viola Cioè a me mancherebbero le scarpe, la cinta E la maschera viola Questa zona non mi piace Che cos'è quel coso lì? E' un cane E' un cane ninja! Oddio! Spettacolo! Ho fatto male cane, ortacci tuo Ancora E' uno suicidato ogni volta Non so perché si suicidino Ma cazzo è un cane ninja Ma che cazzo stai a dire? Ma Inari? E' un tempio di Inari Inari è una volpe E' uno spirito volpe benevolo della montagna E' associato al raccolto A molte cose praticamente Però ce n'è sempre praticamente Sempre uno Ce n'è sempre C'è sempre un Dove c'è In parecchie zone del Giappone Ci sta un tempio Relativo Quello sta giocare E' un'altra volta che ci riesci Perché io non ci riesco Non so come cazzo si faccia Non riesco a giocare E' un'altra volta che mi ha già support Il viaggiatore Avevo una marea Visitatore E' per questo che sono andato là Perché nel caso dovresti rifare tutta la strada Faccio così Faccio prima C'è anche un punto samurai E' una sciocca di Magomio Però adesso non ci sono A quanto pare non ci sono le sciocche diverse C'erano le sciocche di Giovani samurai Samurai Maestro samurai E samurai leggendario Qua invece ci stanno solo queste Queste le posso potenziali? No Sangue e fre... Ah ma questa è sempre una roba per le mani Non mi interessa Destrezza Questa è un'altra cosa Quando eseguimo una purificazione Con il ritmo Chi di tempismo Perfetto Allora appare che le purificazioni Stavolta le hanno disversificate Variamente Quella intermedia Ci permette di Di avere difesa aggiuntiva Quella del cielo Quella alta Permette di avere attacco Mentre quella bassa Permette di recuperare chi Velocemente Quindi è una cosa Basata Si basa Hanno fatto si che Il giocatore Possa basare Tutto su base Sul suo Sul suo stile di gioco Praticamente Aspetta che devo far fuori Quel cecchino Prima che mi comincia a sparare Da lontano Ma io e te Ci baceremo Prima di questo Fini del gioco No? Va bene Vabbè manco cazzo L'abbiamo baciato Nel primo Quindi Anche se Lei gli piaceva No Lui gli piaceva a lei No Lei che gli piaceva Che piaceva a lui No 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 Era lui Lei che piaceva a lui Però lui Lui ha deciso Oh Tanto Dio Che paura Di tornare a casa Con sorse E lei si è un po' Incazzata In effetti Nel DLC Non l'abbiamo vista Un peccato No 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 Era pazza nel DLC Ma solo nelle missioni secondarie Per darcile Qua c'è un altro ombrello Tento passi giganti Ce n'è uno Di quei cosi Guarda lo scritto Di quel caffare Che cazzo È un token più Un tocco decisamente In più Comissimi Sto gran figlio Di una mignotta Aspetta un attimo Frontale tenuta Ma sta ancora a punta Penso di sì Però Frontale tenuta Adesso hai Bella Massacratori Di yokai È come questa Però è diversa Perché è diversa Presente Demonia Presunta Un motivo Che è stato Il mandato A generazione Ma è molto più bella Questa che questa Ma che stai scherzando Solo cosa vuole Abilità Ok Me la segno Intanto Ah questo è potente Non c'ha la stessa cosa Ma vabbè Trovassi Devo trovare Viola Il resto della roba Che mi serve Così ho fatto Perché fare poi Un'affinità Oh Non un tengo Non un tengo Non un tengo Figlio di troia Valla Valla a prender Nel sì Quando ti attacco Ti devo controllare Come boss Sapevo Lo faccio Ho bussato La difesa Al frento Perché Non mi imparo A star fermo Non devo schivare Bastardo di merda Che non è altro Guarda Dio quanto lo odio Lo odio A morte proprio E niente Abbiamo attivato tutti Mi pare che uccidilo Ok Ma noi pensiamo al gigante Ok 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 Calma Respira Un k K Troppalo Sempre roba buona E anche un sacco di anime Tra l'altro Ora Come si risale qua A meno che non faccio Ma è già finita la benedizione Mizzune Ah non l'ho letto Yamata Qualcosa Yamato Comunque Trebbe essere Un insieme di cadaveri Una cosa del genere Dovrebbe essere Un insieme di cadaveri In teoria Se ho capito bene Tutta roba Poteva essere più Più rara Cioè la maschera È viola Sciale tenuta Vabbè le abilità Poi ce le metto io Quello che mi pare Che mi servono Ma porca vacca Ah posso mettere la pausa Normalmente Dimenticate questa cosa Ero convinto Di non poterla mettere Ma fai a mettere in pausa Se sei online Tipo Non puoi Accetta dell'eroe Ah siamo sul mare Che sia l'arma di cosa? Martello dello spadaio Wow che figo Che bello L'accetta dell'eroe Che sta succedendo? Oì Che sta succedendo? Perché il battito cardiaco? Gioco Gioco Allora Dove erano rimasti Che sono andato a cenare? Ho mangiato abbastanza Stavolta Mi sto tranquillo Anche se ho già Buttato tutto fuori Dunque 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 Poverini Sai che fine hanno fatto tutti Allora Qua dietro c'è della roba E c'è anche un tizio No è un uricabe Scusa Scusa Eri di mezzo Dimmi lo potevo lasciare Merda Devo farlo vivere Eh mamma Così ho preferito Troppo tardi Ricordato di trovare indietro Non si può Cangele Non se balla No è un' bitesadoxa Ok Quindi Stamiamo andando Contro un B Se Di Mi stai dicendo Contro un Bu A Io devo andare Però Sopra Perché mi sa Che ho saltato un oggetto che è, si sta là e se ritorna sopra eeeh 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 guarda se a fare un malfestio ci rimango ti giuro ho set elisir oh beh alte cure in realtà anche e la possibilità aaaah non c'ho tanti talismani non c'ho tanti talismani di purezza ma il fatto che ci sia sta musica triste vuol dire che qua è successo qualcosa di orribile che bella maschera che c'è lei ah tutto tace che lei è un Elsa comunque non è un medaglione normale che cos'è ed è veramente buono guarda ma che carino come non detto un malfestio a tre occhi questa fa una brutta pena ah sooo i suoi i suoi ovviamente tatari i mocche nocche e non me le lanciate guarda qui ma che ma che allora oei perché tutti i uccelli ce l'hanno come in sto gioco ma è indebolito so che devo fare l'ho visto per mezzo secondo eccolo qua addosso addosso è nottaulo tre occhi e infatti originalmente è nottaulo se non sbaglio non ce l'ho dato dai tre occhi sta fermo lì baby non ho mancato adesso l'ho preso porca troia non volevo fare quello non volevo fare quello sono morto sono vivo ah va il serpente non serve a molto ma è un enorme gufo ma dimmi che sei uno spirito sarebbe carino niente fa niente fa niente no sono morto no però per essere un uccello ti avvicini un po' troppo oh mi stai a far incazzare e tu non mi fai incazzare cazzo a me se capio che schierta non ho più stamina ok uccello non mi provocare ti non fa cazzate lui non mi sta lasciando neanche un attimo di tregua silenzio mi stavo a fregare perché ti attaccavi molto velocemente e fa e fa cioè non è che fa nel senso tu ti devi allontanare se tu ti allontani non mi ha lasciato l'anima cazzo il nucleo d'anima tutto bene non credo tu sia bene quindi anche tu sei mezza yokai come lui ti suonano in qualche maniera non mi dice che l'elza diventa l'elza del pugnale sono gli spiriti della marita ma siamo sorelle non mi dice che siamo che siamo mia sorella una nereide perché non è una sirena ah guarda quanti maschi i tipi di maschi ci stanno non mi dice che non è spiegato da dove cazzo arriva quell'elza è l'elza di Dozan comunque hanno usato secondo me il modello di source per fare lei vabbè prega voi morti quindi sei rimasta l'ultima sohaya per questo non ci sono altri cacciati di yokai ehm non fa la mossa ahi ecco sto idiota dov'eri dov'eri oh è quella principessa come si chiama non so come è spiegabile ne so un paio di leggende riguardanti qualcosa di marina kyoeme e varie altre oh Matsunaga isaida è un idiota è un pazzo non siamo i buoni non siamo i buoni non lo siamo non lo siamo ve lo posso assicurare che non lo siamo ma perché neanche William era buono in realtà perché William era nella sua storia William era quello era lui la sua storia era qui non c'è scelta ha intervenuto senza nemmeno l'intervento di forza conosciamo Mitsuhide e le sue truppe beh non lo lavorerà in salvo è una cosa più importante ma l'abbiamo finita lo collega pretenderà che tornerà chi fu lo sostanzi mazzonati di saide ma tu sei un idiota era chiaro che fosse una sohaya cioè vabbè no non c'è allora questo è Mitsuhide oh shit eh ma è brutto e sta musica andante sta succedendo casa di te nascosta ah già ci stai ok sì lo so come funziona devo scegliere una guerra una casa e poi posso ottenere anche delle ricompenze sì devo scegliere un clan oh qua è il bello sabato che te li spiega tutti è una cosa online più che altro ragazzi otani che sembra un'elsa però no sono due alene kato l'abbiamo già incontrato un kato asai imagawa ecco l'abbiamo ucciso ishida sanada ma tutti questi non ci stavano ancora kuroda pure non ci stavano tachibana nemmeno no tachibana dovrebbe arrivare in guerra tra poco c'era uno che c'ha una cosa a forma di vivera ma non mi ricordo qual è date saika o esu non saprei dirvi chi sceglie tesoro del clan è diverso sta botta ne sono troppi saito andiamo con i saito che casa no è famiglia nostra eh si sono fuori dall'online quindi non serve niente allora andiamo a vedere lo spirito lo spirito è feroce ovviamente perché lo sapevamo dal dal il filmato iniziale qua ovviamente possiamo mettere la signorina che non prenderei mai sarei bella quanto mi pare ma non prenderei mai il suo posto e l'illustrazione che li ha gli okai allora vediamo un attimo i nuovi okai allora ecco questo è il boss madonna di dio sei inquietante ma proprio inquietantissimo un tatari moche ha origine dalla fusione di un gran numero di spiriti inquieti in un gigantesco cubo abbiate la regione di toku usa una parola tatatino anche per indicare le scivoli di chi va incontro alla morte orribile secondo la tradizione volare lo spirito indicato di un nato deceduto risiede in corpo di un tatatino che i vagiti della creatura è una creatura posso vedere quella non questo non questo non questo dove cazzo sta oh madre of god cosa sto guardando è uno yokai con tre occhi e otto facce nato l'unione dei spiriti di varie bestie la faccia e le gambe ricordano quella di un essere umano di cui però non fossi né la razione della sensibilità si dice che aspetti una guerra nel formidio della foresta e nel senso di curare di sfortuni di matri di questa creatura santo e dio e quindi io pensavo che tu fossi brutto stupendo sei eccola qua al busto di una donna la metà il frio del corpo di un pesce ti tiene che la fosse la figlia di una famiglia nobile non sono quelle le sirene porco il cazzo ma vabbè nel folklore giapponese oltre ad essere menzionati l'inion shogi del 720 si ricorda il famoso racconto del pinche Shototoku che costruiva un tempio con la richiesta di una persona di una sirena in virtù delle relazioni compiute in vita precedente si ritiene che la sirene sia di buono che di cattivo specchio alcuni li considerano proteggiti di stazione durata e credo che nella loro capacità di condurare la vita umana di proteggere dal fuoco io ripeto che questa non è una sirena è una nereide le sirene sono donne uccello per dio ah non so come cazzo farvelo spiegare sta cosa andate per leggere omero andate per leggere ci sono anche delle illustrazioni ogni tanto non so sirene donne uccello hm Toshimitsu Akechi Mizuzune ah a che cipizzazione il saluto del canoda quanto è invecchiato il caso è ma più vecchio di quando lo incontri per primo ok quale sono le missioni qua ohio 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 salme di ghiaccio voglio assolutamente vederla questa missione ma sono stanco voglio controllare anche l'inguaggiamento perché mi hanno dato roba nuova questa che è di basso livello ma se l'avanzo di livello dovrebbe aumentare poi mi hanno dato corazza di sohaia sale tenuta meno debole che palle bracciale tenuta è che non conta vuole tenuta di sohaia non vuole cinta aspetta che c'ha questa va bene anche perché questa non l'ho potenziata la cama tenuta di sohaia no vabbè niente potenza magia oh mio quella cosa fa e vabbè abbiamo anche non mi ha dato il suo cuore è già da un po' che non mi danno più le cuore è che da un po' che non trovo un po' di fucile vediamo se abbiamo trovato qualche nuova arma ma ne dubito infatti quella la spada non la sto usando mai mai vedo mai proprio la sto usando la spada ce l'ho solo quella e che te posso fare non trovo l'arba migliore allora eh non so cacchi trovo tanti cacchi perché sta qua no dov'è sigilla vita cioè cosa vuoi per sigilla vita quello per forza che però vuole questo che vuole questo ma questo vuole pure questo porca puttana sto montando lo prendo c'è sta qualche passiva al volo chi è questo non ho capito attenzione di imparare ombra ombra ah si vabbè i capitoli si chiamano grazie le regioni si chiamano in base al capitolo risveglio ali e ombra vabbè 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 allora io vorrei andare a vedere direttamente questa missione primaria però non so se andarmi a fare queste qua chissà chi me la dà si forse devo rifare il boss scatto di distinzione vabbè ci vediamo ci vediamo in prossimo video ragazzi vi ricordo che vi ricordo che con che parla mano si può cambiare il mondo bye bye